Ciao ragazzi, oggi facciamo un test alla cieca. Suonerò la mia Fender StatoCaster Custom da oltre 4.000€ e la confronteremo con questa chitarrina per ragazzini dal costo di 20€. Scherzo, la rivale sarà la Donner DST 152 dal costo di 200€ con custodia ampli ed accessori. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani e oggi voglio fare un video comparativo tra due chitarre simili per molti aspetti, ma sicuramente non nel prezzo. La Fender infatti costa 20 volte in più della Donner. Potrebbe essere una prova impari e già vi sento dire, ammazza che ragazzino, ancora con queste prove ridicole, ma vi assicuro che vi stuperete. Metterò alla prova la Donner per capirne i limiti e vedere se il confronto regge o meno. Ora faremo un ascolto bendato tra le due chitarre, scegliete quale delle due è la Fender o la Donner e scrivetelo subito nei commenti qui sotto. Alla fine del video vi darò la soluzione. Ora ragazzi, se vedete per la prima volta il mio canale, non spaventatevi se vi chiedo di iscrivervi in modo un po' arruento al canale. D'altronde in passato qualcuno si è risentito, io ho provato anche a pentirmi, ma ho trovato chiuso. La cosa però che mi è successa poco tempo fa e che mi ha fatto molto riflettere me l'ha scritta Bruno, che non è un mio iscritto. Se cercassi di fare meno il ragazzino ti seguirei, ma sei al limite del ridicolo. Allora Bruno, senti a me. Devi sapere che sono molto dispiaciuto che non mi segui, davvero. Io non ci ho dormito due notti per ben un giorno. Ragazzi, io proverò a pentirmi come la scorsa volta aiutatemi a capire come fare per essere più triste nei video, più serio e non fate ragazzini pure voi. Lasciatemi un commentino qui sotto con la parola ragazzino e il più bello lo sceglierò e lo metterò nel prossimo video. Quindi Bruno e voi tutti, cliccate mi piace, doppio mi piace e iscrivetevi attivando la campanella per i prossimi video. Tristi. Ora, ad essere onesti, non sono un grande fan di questo video dove si fanno delle comparazioni tra chitarre economiche rispetto a chitarre costosissime. Ma dopo aver suonato e recensito un bel po' di Donner, sia elettriche che acustiche, sono sempre più convinto della loro qualità costruttiva e soprattutto in relazione al rapporto qualità-prezzo. E per questo voglio vedere se regge il confronto con una Stratocaster di fascia alta. A livello di materiali e di costruzioni sono due chitarre ovviamente non identiche. Non lo entererò troppo nelle specifiche che potete trovare tranquillamente in rete, ma la differenza più evidente è nella tastiera, che una è in acero, l'altra in palessandro e ovviamente nei pickup. In questo modello in particolare la Donner monta al ponte un humbucker, ma lo userò in modalità single coil premendo l'apposito switch presente nel controllo di tono. Userò il mio Fender Twin con un pizzico di reverbero dell'ampli e per il suono crunch metterò un leggero tube screamer. Dopo aver sentito come suonano vi dirò le sensazioni che ho provato da ciascuna chitarra e alla fine vi svelerò qual è la chitarra A e qual è la chitarra B nella prova iniziale. Grazie a tutti. 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 La Fender ha un suono più caldo e pieno con un maggior sustain, soprattutto con i suoni clean, mentre nel suono crunch sembrava essere più presente e ricca di medie frequenze, sicuramente a causa della differenza di pickup e dei materiali. Il suono quindi della strato è quello che mi aspetto da uno strumento di questa fascia di prezzo, una migliore qualità dei materiali, delle caratteristiche costruttive di alto livello e non ultimo anche l'età di questo strumento. La Donner comunque regge bene il confronto soprattutto considerando il prezzo sotto i 200 euro con ampli e accessori. Il fatto poi di avere il controllo per switchare da humbucker a single coil è un valore aggiunto in termini di espressività sonora. A livello di suonabilità è molto comoda anche grazie al manico AC più piccolo di questa Fender Jeff Beck che invece è rinomata per il manico sempre AC però anche detto mazza da baseball. Sarà che a me piacciono molto le chitarre con il manico grande probabilmente perché provengo da studi di conservatorio di chitarra classica. La Donner però con il manico più piccolo è sicuramente facile da suonare per chi inizia e per chi ha le mani piccole come ragazzini. La tastiera della Fender invece è migliore, più scorrevole, sembra quasi che si scivoli sui tasti ma la Donner è comunque valida senza imperfezioni lungo i bordi. D'altronde ragazzi sono quasi 4000 euro di differenza tra le due chitarre cosa non da poco soprattutto per chi non ne fa un uso professionale o magari vuole uno strumento stile Fender senza spendere un capitale. Ragazzi cosa ne pensate di questo confronto? Fatemelo sapere nei commenti. Io intanto vi dico che se all'inizio del video avete scelto la chitarra A sappiate che era la Donner e se avete invece scelto la B ovviamente era la Fender. E non fate ragazzini se avete sbagliato scrivetemi la verità con un commento. Ragazzi è la prima volta che faccio un confronto simile e devo dire che mi sono davvero divertito a sentire le differenze tra le due chitarre. Se volete altri video come questo fatemelo sapere nei commenti, io vi lascio il link della Donner in descrizione. Faccio un saluto a Bruno il Vecchio, noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video e ricordate che se siete tristi o allegri dipende sempre dal ragazzino che avete dentro di voi. Tiratelo fuori il ragazzino. Ciao ragazzi buona musica!